Uomini e donne, la scelta di Nilou Faradati e Nicolò Ferrari? La prova. Uomini e donne, Nilou Faradati sceglie Nicolò Ferrari? L'indizio social. Nilou Faradati sta dividendo il pubblico di uomini e donne. La giovanissima tronista piace molto, ma allo stesso tempo alcuni telespettatori non comprendo alcuni dei suoi atteggiamenti. Al momento, la ragazza sembra essere ancora molto lontana dalla scelta. Tutti la credono interessatissima a Lorenzo Riccardi, che però non sembra avere ancora le idee chiare su quale tronista corteggiare. Le cose vanno molto bene con gli altri, anche se lei non pare riuscire a sciogliersi del tutto. La maggior parte dei fan del trono classico spera che la napoletana scelga Giordano Mazzocchi. Eppure dai social è arrivato uno strano indizio da parte della mamma della diretta interessata. Una lettrice del blog Il Vicolo delle News ha infatti scoperto che la mamma di Nilou Faradati ha messo uno strano mi piace. In molti hanno chiesto alla signora di invitare la propria figlia a scegliere Giordano. La donna non ha risposto a nessuno, ma ha messo lì che ad uno commento in particolare. Una ragazza ha infatti dichiarato di voler vedere la dati scegliere Nicolò Ferrari. Di fronte a questa esternazione, la mamma della tronista non è riuscita a fare a meno di me te un mi piace. Cosa avrà mai voluto dire il gesto della signora? L'ex concorrente di Riccanza è forse il preferito della donna? Staremo a vedere come si evolverà la situazione. In ogni caso, in studio la ragazza non pare dare alcun segnale su chi preferisce tra tutti i suoi bellissimi corteggiatori. Nilou Faradati a uomini e donne, la scelta sarà Nicolò Ferrari. Senza dubbio, sin dalla prima esterna, Nilou Farad e Nicolò Hanno mostrano di essere davvero molto complici. Insieme sono molto belli e sembrano avere anche la stessa fragilità nell'affrontare la vita. Le stesse passioni e lo stesso tenore di vita sta aiutando davvero molto nella conoscenza. Nel frattempo però, la tronista pare essere tornata nuovamente da Lorenzo Riccardi. Insomma, le cose non sembrano procedere lisce come l'olio come invece dovrebbero.